Ciao a tutti, vediamo in questo video i 5 segni zodiacali più imprevedibili. Allora, prima di affrontare questo tema iscriviti al canale e seguimi sulla pagina di Instagram Massimo Terramasco. Allora, quali sono i 5 segni zodiacali più imprevedibili? Allora, il primo è l'acquario. In altre situazioni dell'acquario hanno pienamente diritto a capire, a entrare in questa categoria, perché sono personalità per nulla scontate, libere, talvolta introverse, capaci di slanci improvvisi e quindi sono imprevedibili. Con l'acquario non bisogna avere soltanto pazienza, ma la consapevolezza che è fatto in questo modo. Poi abbiamo il seno della riete. La riete, diciamo, l'imprevedibilità della riete dipende fondamentalmente dal fatto che è un segno molto impulsivo, ha poca pazienza e vuole tutto e subito. E quindi si comporta, diciamo, in modo estremamente impulsivo, talvolta anche eccessivamente. Questa sua impulsività talvolta la paga, diciamo così, questo eccesso di sicurezza talvolta lo paga. Poi abbiamo i gemelli. I gemelli sono il segno imprevedibile per eccellenza, perché rappresentano l'inverso e l'inverso della stacosa. Il segno dei gemelli è un segno, diciamo, imprevedibile, che passa un morale, passa da un numero all'altro e cambia idea molto, molto facilmente. Sono volubili e cambiano atteggiamento. Quindi chi vuole avere persone più stabili e meno imprevedibili, bene, faccia meno di relazionarsi con questi cinque segni, perché questi possono dar filo da torcere, da questo punto di vista. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale e iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Al prossimo video. Ciao a tutti.